Siamo contenti, finalmente si cammina più tranquilli, si può camminare rilassandosi, mentre invece prima si camminava e si vedeva il delirio. Molta confusione c'era prima, anche troppe cineda. Un'area verde finalmente restituita alla cittadinanza, questa è l'area che si respira al parco della Colle del Pionta dopo l'operazione Duomo Vecchio che ha portato all'arresto di 41 spacciatori, assestando così un duro colpo alle principali piazze dello spaccio a retine. Ah, è una goduria! Si vive, c'era ora. Si sta più tranquilli? Adesso continua il pattugliamento, impiegati gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Arezzo. Fino a poco tempo fa era invivibile, comunque con un po' di coraggio si camminava. Oggi si cammina più tranquillo? Sì, 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 senz'altro. Poi ci sono le pattuglie della Polizia, quindi tutto bene. Era necessario questo? Altro che sì. Nel corso di questi controlli poliziotti hanno fermato un pusher magrebino che era finito in manette lo scorso 9 maggio durante la maxiretata. L'uomo con precedenti penali, pespaccio e violenza sessuale e destinatario dopo l'udienza di convalida nel divieto di dimora nella regione toscana è stato sorpreso nuovamente al Pionta con 200 euro di banconote di piccolo taglio. È stato così portato in un centro di permanenza temporanea per essere espulso. Non si ferma nemmeno l'attività di polizia giudiziaria della squadra mobile di Arezzo per rintracciare gli ultimi indagati destinatari di un provvedimento cautelare ed ancora liberi. A Livorno è stato fermato un pregiudicato marocchino al quale era stato notificato il divieto di dimora nella provincia di Arezzo.